Con SuperSite, attraverso la funzione Pagine sulla privacy, è possibile creare ed abilitare una pagina dedicata all'informativa sulla privacy, un'avvertenza sui cookie e una pagina dedicata all'informativa legale, qualora lo si desideri. Per farlo, accedi a SuperSite 10, clicca sulla prima icona del menu superiore e poi su Impostazioni sito. Clicca su Opzioni della privacy. Dal menu di sinistra, seleziona la tipologia di informativa che desideri impostare e configure i campi richiesti attivando le singole pagine dalle relative opzioni. Vediamole singolarmente. Seleziona Informativa sulla privacy. Attivando questa funzione, verrà aggiunta in fondo alla pagina una casella di spunta di conferma alla maggior parte dei moduli presenti sul tuo sito, che linka contenuti che configuri in fondo. Poi salva la configurazione dal pulsante indicato. Da Informativa sui cookie, attivando questa funzione, verrà mostrato ai visitatori un banner ignorabile che avverte dell'utilizzo dei cookie. È possibile collegarla a una pagina esterna che tratta in modo più approfondito la politica dei cookie. Poi salva i dati dal pulsante in alto a destra. Ed infine, attivando la funzione Informativa legale, verrà aggiunto un link in fondo alla pagina dell'informativa sulla privacy. Indicare il testo del pulsante, l'URL e il corpo del testo. Infine, clicca Salva e poi pubblica le modifiche per visualizzarle in anteprima. Potrai notare come sono state aggiunte l'attertenza sui cookie, un link ed una pagina dedicata all'informativa sulla privacy e dall'informativa legale.